Uomini e donne, Sara e tornano insieme dopo l'accaduto. Sara, Shime e Sony di Meo sono tornati insieme. La coppia nata a uomini e donne ha dato vita a uno strano tira e molla. Durante il quale lui ha addirittura avviato un'altra relazione. La rottura è arrivata lo scorso mese di dicembre. Quando entrambi hanno rivelato al pubblico che li segue che la love story è raggiunta al termine. Senza svelare i dettagli. Ed ecco che ora, dopo il gossip di Dejanira Marzano, l'extronista del programma di Maria De Filippi ha confermato il ritorno di fiamma, con un annuncio particolare. Dopo la rottura avvenuta a dicembre, non sono mancate le polemiche. In particolare, molti fan del dating show di Canale 5 hanno criticato la scelta di Sony di avviare subito un'altra relazione con un'ex corteggiatrice. Aurora Colombo. Questa relazione non è durata granché, tanto che di me o è tornato subito tra le braccia di Sara. Che l'ha riaccolto? Una decisione inaspettata è quella della shyme. Infatti, lei stessa fa notare che potrebbe sembrare una scelta folle quella di tornare a fianco di Sony. Per annunciare il ritorno di fiamma, l'extronista di Wade condivide su Instagram un messaggio e un video. Io e Sony siamo tornati insieme. Dopo un periodo difficile, che ci ha portato a dividere le nostre strade. L'amore che tra noi non è mai mancato non ci ha permesso di rimanere separati. Dopo aver parlato tanto e aver compreso i motivi che ci hanno portato a commettere tanti e gravi errori, chi più ovviamente, chi meno, ci siamo ritrovati. Spero possiate comprendere e capire proprio come abbiamo fatto noi. Sara shyme fa presente che spesso è facile giudicare, come lei stessa ha fatto in passato. Ma bisogna guardarsi dentro, capire, perdonare e andare oltre, spiega l'extronista.